vi saluto tutti quanti cordialmente e grazie per esservi con me parliamo di poesia e parliamo di prosa il poeta cosa fa il poeta il poeta gioca con le parole ma è un gioco serio ma chi parla ad un pubblico può giocare con le parole io sono amleto ravedoni e siamo insieme da un po di tempo con questo canale che dedica dedica spazio e tempo a dare dei suggerimenti sulla sull'uso della voce in pubblico e anche su tante altre cose che 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 accompagnano il nostro essere presenti sul pacco scenico allora c'è un film dove massimo troisi l'attore italiano è scomparso un po di anni fa dice che un figlio deve avere un nome corto perché quando lo chiami lui arriva subito vuoi mettere ugo piuttosto che alessandro beh detta da lui la battuta nel contesto del film era molto divertente ma era solo una battuta oppure c'è del vero sull'efficacia della scelta dei nuovi istintivamente quanti di noi vedono contratture dei loro nomi fatti da amici dai genitori stessi ad esempio mia mamma mi chiamava am anche se amleto tutto sommato è un nome corto i poeti conoscono bene che alcune parole funzionano meglio delle altre per esempio dire un nome dell'altro primo un nome dell'altro suona meglio un esempio preferite ugo ed elisabetta o elisabetta e ugo cosa suona meglio per voi provate scegliere quale parole va usata prima di un'altra però è un lavoro abbastanza raffinato un lavoro ricercato che si che fa affidamento sulla nostra sensibilità uditiva ecco un altro esempio nell'uso delle parole si chiama non mi fucilate è una parola parola vi sto dicendo che parliamo di paronomasia paronomasia è la paronomasia è una figura retorica grazie alla quale si accostano due parole di suono simile o uguale ma di significato differente come mettere in risalto l'opposizione dei significati tutti quanti conosciamo chi non risica non rosica no oppure dalle stelle alle stalle insomma mettere insieme parole che presentano delle somiglianze fonetiche è usata spesso in poesia ma anche dagli oratori più raffinati la paronomasia rafforza l'espressività e l'efficacia del messaggio perché le persone capiscono che c'è un lavoro raffinato dietro imparando ad usarla la grammatica va a finire come un affluente nel fiume della semantica che come sapete si occupa di dare significato ai pensieri alle azioni se un suono può aumentare il significato delle parole il suono così possono fare anche i gesti abbiamo visto in puntate precedenti che c'è un testo scritto e c'è un testo orale e ci siamo già soffermati sulle loro differenze ora partiamo ora velocemente dal testo orale la parola testo deriva dal latino che richiama la parola tessuto cos'è un tessuto è un intreccio di fili ecco che cosa che cosa fa un insegnante cosa fa un predicatore un oratore un affabolo un affabulatore l'affabulatore è colui che con la parola affascina qualcuno di voi non giovanissimo forse ha visto uno spettacolo one main show gigi proietti che ha fatto uno spettacolo tanti anni fa a me gli occhi please ecco lo potete anche trovare bellissimo tutte queste figure di esseri parlanti devono intrecciare il loro discorso l'intera comunicazione determinata dalle parole dei verbi che scelgo dai silenzi dai cambi di tono dai cambi di volume dai gesti dal movimento sul palco o dove mi trovo esiste quindi se vogliamo lavorarci su una forma poetica che l'oratore può usare ho parlato di una forma e la forma si può trasformare in contenuto ripeto la forma si può trasformare in contenuto quando avevo vent'anni con un amico di nome irnerio che vive a san bonifacio vicino a verona in alcune isolate in alcune serate iesolane estive si parlava di tutto e anche di forme lui studente di architettura e io di storia dell'arte beh ci trovo ci trovavamo e alla fine una sera convenimmo che la forma curva è la forma più vicina al sentire dell'uomo ora se ora noi guardiamo due dipinti che fra poco vedrete veramente uno di cezanne e uno di kirchner possiamo vedere come le forme e i colori ci parlano diversamente ora non sta a me dirvi cosa ci trasmettono perché tutti noi abbiamo gli occhi per vedere una sensibilità per ascoltare il messaggio che ci arriva al di là della forma stessa però quello che vediamo è che sono cose diverse parlano un linguaggio diverso quindi la forma può produrre sostanza ed un buon comunicatore deve sapere che chi lo ascolta non si limita a percepire la gradevolezza della voce ma anche soprattutto la potenza del messaggio o se preferite del contenuto che passa da quella persona che parla che fa silenzio che gesticola e altro ancora lo so va bene forse ho parlato di cose che non si ascoltano molto spesso e ripeto qualcosa potrei averla detta in modo troppo sbrigativo o magari qualcosa qualcosa non l'avete afferrata pienamente ma ripeto la bellezza di queste registrazioni e che sono lì disponibili ogni qualvolta qualcuno vuole andare a risentirsi abbiamo terminato io vi ringrazio e ripeto se condividerete il video e vi iscriverete al canale io ve ne sarò grato profondamente dal mio coraggio vi saluto a presto ciao 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 ciao